Ciao ragazzi! Allora, siamo qua per fare una nuova foto della serie Loves e approfitto di mia cugina con il gatto che forse vedete là dietro che è uno stupendo... Gattara! Esatto, lei è una gattara! Il gatto è uno stupendo siberiano, giusto? Si! Siberiano, si chiama Calypso, ti chiamano tra tutti Calippo e a parte ciò facciamo una foto della serie Loves quindi setup di luci più o meno sempre lo stesso con luci molto calde, il gatto ha deciso di girare un po' per qua ma va benissimo. Abbiamo una giraffa qua davanti con un octabox e un flash all'interno con un gel un quarto CTO, poi abbiamo un flash dietro nudo con un gel full CTO e poi abbiamo qua dietro un flash con il softbox per dare un po' di luce qua sulla spalla, una luce un po' morbida, una specie di rim light un po' morbida lì con un mezzo CTO quindi quarto CTO, mezzo CTO, full CTO dietro. Per quanto concerne le potenze dei flash abbiamo... ho già fatto un po' di prove perché col gatto ovviamente non è che posso mettermi a fare le prove mentre spiego nel video ma dobbiamo fare un po' rapidamente quindi flash qua è venuto potenza un quarto il flash questo qua quindi quello nel softbox potenza un sedicesimo e il flash là dietro potenza un ottavo meno un terzo un ottavo va anche bene comunque più o meno una roba del genere flash tutto in manuale come parametri uso la macchina fotografica ISO 100 F4 un centosessantesimo di secondo adesso finalmente posso mettere a fuoco qualsiasi punto volendo possiamo anche provare a fare la foto fino a ne solo fatte col punto fisso potremmo provare a farle con la rilevazione del volto vediamo se avendo il gatto in mezzo la EOS R ce la fa rilevare il volto e ci proviamo dai... un po' più in qua un po' più in qua... ok dopo questi tentativi col gatto tra tutti abbiamo visto che una o due foto decenti ci sono pertanto ho del materiale da sistemare e niente ci vediamo alla prossima foto ciao 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 muva ciao allora aspetta un attimo di serietà ce la posso fare